Buongiorno e benvenuti. Oggi volevo dissipare un dubbio che è abbastanza comune tra i rider. Insomma, team o DF team? La gamma Drake ha queste due alternative che sono estremamente simili nella costruzione, nel profilo e nel tipo di camber. Sono veramente due tavole che possono sembrare a prima vista sovrapponibili. Quindi, quale devo scegliere? In realtà la divisione è molto molto semplice. Cioè, la DF team, come c'è scritto qua, non so se si può leggere bene, è Drake Freestyle Team. Quindi, la tavola freestyle del team di Drake. Mentre la team, proprio come da catalogo Drake, come da tipo di utilizzo, è la gamma All Mountain. Quindi, se il vostro riding quotidiano è passare dalla pista un po' di fresca e con qualche sporadico ingresso in park, cercando stabilità e precisione, sicuramente la team, con la sua leggera direzionalità, vi darà molti vantaggi in questo tipo di riding. Se invece cercate un mezzo capace di portarvi sulle linee più grosse in park, senza disdegnare qualche girata in pista con della carica, la DF team è il mezzo che fa per voi. Direi molto semplice. Se avete qualche curiosità in più, scriveteci qua sotto, sui social, anche una mail senza problemi. Siamo a disposizione. Se volete togliervi veramente tutti i dubbi, potete provarle, queste tavole, alle nostre uscite. Date un'occhiata sul sito e nella sezione viaggi e troverete a quale uscite sono disponibili le tavole di Drake in testa. A presto! Boom!